NAPOLI Donatella Mazzolini, 6 anni, invita la sorellina a farle visita nel salotto che ha preso il secondo premio. Vittorio Nocera, fiaba e rilievo realistico. Fausta Martini accentua la plastica del paesaggio. Di Ernesto Ecopo questo suburbio stupefatto. Il pittore Ciar dovrebbe sapere dalla mamma di Michele Gervasio com'è apparsa questa sorprendente vocazione. Michele ha 5 anni, è un primatista della precocità. Quasi non sa ancora le parole per tradurre le storie improvvise che la sua matita gli racconta. L'arte è memoria. Micheluzzo Nostro si ricorda di un mondo che non ha fatto ancora in tempo a vedere. Questi bambini, vedete anche Luisa Palermo, ci fanno le confidenze di un paese per cui abbiamo smarrito il passaporto.